Ehi, allora? Tutto bene, mi ha trovato in gran forma Penso un po' che mi voleva dimettere Non scherzare dai, gli hai detto come se è stato male l'altra notte Sì, l'ho detto tutto quanto Si, riporta la grande con la chemia e qualche rinforzino, però... Io mi sento un leone, sarà l'amore, tu che dici? Grazie